negli anni sempre fine anni 60 parliamo cominciamo a parlare 68 così 67 68 i fondi per il cino sempre molto miserrimi per cui si facevano sempre questi film con pochi soldi con molta buona volontà si cercava l'assistente magari a metà prezzo magari tre ore di meno così si salvava la capra i cavoli si metteva sempre l'amo viola in questi uffici sempre sempre più meno pregiati tant'è vero che a certo punto mi chiamava una produzione l'amo viola era in cucina con le maioliche proprio per cui il suono schiccherava c'era proprio lo spazio delle c'era il lavandino e l'amo viola la produzione era di gianni buffardi era il genero di totò praticamente che sposò di anna buffardi lui era una persona deliziosa per un cialtrone di qualità meraviglioso perché lui faceva il pataccaro non ci aveva i soldi lui produsse questo film innamorato di un progetto e lo voleva produrre non aveva i soldi quando era fine settimana non c'erano mai i soldi apriva l'armadio diceva scegli un orologio c'erano tutti i orologi ma come un orologio io devo fare la spesa che ci faccio oggi insomma due lire qual era il progetto il progetto era un film scritto da un grande sceneggiatore che era Luigi Magni Luigi Magni è stato uno dei più grandi sceneggiatori allora e sempre perché è stato veramente una penna indimenticabile però come tutti gli sceneggiatori che decidono di passare la regia sanno che lo scritto è ciò che conta e lui sosteneva che lo star system non era importante l'importante era la scrittura quindi aveva convinto gianni buffardi a produrre questo film che si chiamava Faustina Faustina era un film pensato per è la storia di una negra si può dire negra ragazza di colore politicamente corretto ma c'era scritto negra sulla sceneggiatura di una ragazza nera di una ragazza nera una ragazza di colore figlia della guerra che vive nelle baracche che sono esistite fino alla fine degli anni 90 credo sull'acquedotto felice eccetera nelle baracche tombaroli gente miserrima così e quindi era la storia di un tombarolo che andava a spogliare le tombe rivenderle di un morto di fame pieno di sogni di questa ragazza nera che era riempita di botte da questo tombarolo pazzesco e che sognava la vita facile guardava la luna allora idealmente la nera doveva essere claudio cardinale il tombarolo burbero e manesco dove essere alberto sordi e ragazzo sognatore senza una lira pieno di nuvole nino manfredi buffardi produsse il film con vonetta maghi ragazza mai vista e conosciuta renzo montagnani che faceva il tombarolo ed enzo gerussico che faceva il sognatore il film cominciò chiaramente in pellicola bianco e nero perché il colore si stampava soltanto una scena ogni sequenza costava troppo quindi questa cucina si mettevano si mettevano io mettevo in fila il materiale poi verso le 4 le 5 andavo via perché avevo finito l'accordo così e il film doveva montarlo però ruggero mastroianni una grande firma poi negli anni lì era capito il top era veramente capito più grande montatore in quel periodo e però non poteva dire di no a gg magni perché aveva scritto tutte le cose che lui aveva montato sia per marcello eccetera quindi gli dissi beh aveva anche il film di visconti poi a un certo punto il film di visconti doveva concorrere per venezia e gli disse a gg gg non posso vai avanti tu trova la maniera e fatti il film da solo io vengo a rivedere a guardare il montaggio e fatti una supervisione e si offrì come per fare questo montaggio l'aiuto regista che mi sfugge il nome perché veramente fu una toccata e fuga lui venne in moviola a parte il fatto che praticamente raschiò tutta la scena non sapeva neanche caricarla in moviola perché il percorso della pellicola nella moviola aveva un suo andare e il suo tornare lui non sapeva neanche da che parte di passare quindi ero lì che lo accudivo come badante a un certo punto lui ha un gran mal di testa perché la tensione io gli offri il mio opdalidon che si usava molto l'opdalidon col primo un caffè due opdalidon facevi la mattina era era l'eccitante dell'epoca lui poveraccio era allergico praticamente sparì con gli opdalidon e mi trovai il film in mano